Per oggi facciamo un video con... Discuto in particolare una cosa che Salvini vuole fare, un'altra trovata geniale di Salvini. Salvini è molto geniale quando vuole. Allora, Salvini ha deciso che deve fare le targhe per le biciclette, comprese quelle di bambini, monopattini, biciclette elettriche, biciclette, pure quelli per i bambini. Quindi una trovata geniale, solo Salvini poteva pensare a questa cosa. Quindi si pagherà un bolo di 75 euro, 100 euro, l'odiato bolo, che lo odiamo tutti, si pagherà anche per le biciclette. La legge deve passare in Parlamento tra un mese, vediamo se lo approva il Parlamento, ma come li vedo questi tutti sotto sopra, approveranno questa legge perché si tratta delle entrate, ok? Si tratta delle entrate per lo Stato e quindi hanno trovato un modo di tassare pure le biciclette. Avete capito? Una idiozegna totale. Però Salvini con il suo partito, prima che mi dici dove hai messo qui i 65 milioni, Allora possiamo dire che sei una brava persona, però finora lasciamo stare, non parliamo proprio. Allora, ho trovato un articolo che è scritto Targa e bolo per le biciclette tremano i possessori, addirittura anche questi hanno messo un titolo click buy di quello, tremano i possessori di bici in Italia, la tassa anche su quelle di bambini. Geniale questo articolo. La gestione delle biciclette potrebbe diventare diversa rispetto a quanto siamo abituati finora. Si fa strada all'ipotesi di introdurre la targa e il bolo, ecco perché questo potrebbe accadere. Ecco perché, vediamo cosa ci spiega questo articolo. Loro pensano preservare la sicurezza dei tutti, ma loro se ne fregano alla tua sicurezza proprio niente. Loro si fregano per fare entrate allo Stato, che si entreranno, fai un calcolo, loro hanno calcolato che sono 45 milioni di biciclette in tutta l'Italia, quindi qualche miliardino se lo fanno entrare. Ok, quindi preservare la sicurezza di tutti gli utenti che circolano è fondamentale. Perché mi fate ridere? Non voglio di ridere, ma devo ridere per forza. Prelevare la sicurezza di tutti i cittadini. Un paio di mesi, qualche anno fa, ci volevate fare fuori tutti con le punturine. Adesso ci pensate di nuovo a noi? Grazie mille. Io non ci credo. È fondamentale, ed è questo obiettivo numero uno, che si prefigge il codice della strada. Non a caso, questo tende a essere aggiornato periodicamente, quindi si riavisano particolari criticità e si ritiene opportuno dover intervenire. Tutti dovrebbero quindi essere informati su eventuali variazioni, in modo tale da non essere colti in falo in caso di controlli. Grazie di avermi annunciato. Se mi ferma la polizia con la bicicletta, devo avere il casco, devo avere la targa e devo farvi vedere anche l'assicurazione del bolo della mia bicicletta. In questo periodo si sta concentrato l'attenzione soprattutto su quelli che vengono essere definiti gli utenti deboli. Cioè, questi con la bicicletta e pedoni sono definiti utenti deboli. Quelli che guidano le macchine imbottiti di cocaina, quelli non sono deboli. Ok, ovvero i motociclisti, anche i motociclisti sono considerati deboli, ma loro già pagano tutte le tasse, loro sono a posto. Ok, ma soprattutto pedoni ciclisti che possono correre dei rischi se gli automobilisti possono risultare troppo indisciplinati. Ma cosa c'entra se un automobilista è indisciplinato con il fatto che mi devo fare assicurazione? Se quello mi mette sotto, mi ammazza. Cosa succede? Sono morto ugualmente. L'assicurazione, pensate che pagherà, farà mille storie l'assicurazione per pagare perché quello con la macchina mi ha messo sotto. Sì, ma vedi, vediamo di qual è l'angolo, com'è caduto. Ah no, ha ricevuto una piccola spinta la macchina. È colpa del ciclista che è caduto con la testa sul marciapiede. Quindi non paghiamo l'assicurazione. Finita. Avete capito? Solo per incassare i soldi. Una delle novità qui si sta lavorando potrebbe ricordare le biciclette. Loro dicono potrebbe, ma già Salvini è partito. Già lui vuole mettere questa in atto. Quindi non ci sono problemi. Ora che le temperature sono destinate a diventare più umidi, tanti potrebbero decidere di togliere dal garage le biciclette. Quindi se devi togliere la bicicletta, assicurazione, cose varie, va bene. Usarla per lavoro, se a distanza non è eccessiva, per esempio, lo usi per lavoro, bla 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 bla. I pericoli che si possono avvertire possono essere però differenti. Ma i pericoli in questa vita sono dappertutto. Guarda, vai a casa, scivoli sul pavimento, sei morto. Hai capito? Quindi non c'entra niente questa cosa delle biciclette. Il ministro dei trasporti, Matteo Salvini, ha però in mente una manovra ad hoc per i ciclisti. Volta ad aumentare la sicurezza, ma che non tutti potrebbero prendere in maniera favorevole. È ovvio che non lo prendo in maniera favorevole. È ovvio. Un'altra tassa, visto che siamo in un stato più tassato dell'Europa, un'altra tassa in mezzo. Quindi loro hanno detto che bisogna abbassare le tasse, bisogna aumentare lo stipendio minimo. Invece cosa fanno? Mettono un'altra tassa. Perfetto. Grazie Salvini. Sei un grande. Allora, ecco cosa può accadere. Sin da quando è diventato ministro, Matteo Salvini sembra pronto a fare quello che ritiene opportuno affinché il livello di sicurezza che si respira sulle nostre strade possa essere maggiore. Al momento le sue proposte vanno soprattutto in due direzioni, monopattine e biciclette. Nel caso delle due ruote, il politico sta pensando a una svolta drastica che provvede all'introduzione della targa, in modo tale di equiparla ai veicoli a motore. Come tale si dovrebbe così passare anche dall'introduzione del bolo una delle tasse più odiate, perché è legato solo al possesso del mezzo. Non mi meraviglia, si mette anche le tasse, mette la tasse anche sui cavalli. Hai capito? Questi capitano in campagna dei cavalli. Targa e boll'auto. Una mossa destinata a far discutere. Al momento in Italia contano 45 milioni di biciclette. Così hanno calcolato loro. Sapete come fanno i politici? Facciamo così, 45-50 milioni, vabbè. Come dicono ogni fine, quando la gente va in weekend. 20 milioni di italiani vanno fuori città, in giro per l'Italia. 20 milioni, già loro sanno il numero, hai capito? Tutte stronzate, statistiche stronzate. Allora, numero che potrebbero essere un introito non da poco per le case dello Stato. Avete capito? Un introito per le case dello Stato. Il rischio che alcuni possano interpretare questa mossa come l'ennesima mossa nei confronti dei cittadini è ovviamente dietro l'angolo. È chiaro. Più chiaro di così cosa vuoi? È chiaro che mi vuoi imponere un'altra tassa. È chiaro che mi vuoi imponere un'altra mazzata. È normale. Cosa vuoi che penso io? Che pensi al mio bene? Io non ho mai creduto nello Stato, nelle istituzioni che mi vogliono bene. Mai. Perché non è mai successo. Salvini, per favore, cerca di non prenderela sul serio con questa legge perché secondo me non andrà a buon fine. Se no, Salvini, guarda, ce l'ho anche qua una macchina, scala 1.18, mettiamo le targhe anche a questa, bolo, mettiamo tutto anche a questa, va bene? E perché, sai perché? Perché si aprono le porte, guarda. Su questa si aprono le porte, Salvini. Quindi, ha le batterie, qua entrano le batterie, 8 batterie, quindi è una macchina elettrica. Quindi anche questa serve, bolo e targa. Mi raccomando, fai anche per queste, che visto che vuoi volare tutto, vuoi fare tutto, fai anche per queste macchine. perché questa è una macchina elettrica, una BMW i8, eh? Guarda qua. BMW i8, Salvini. Mi raccomando, anche per queste targhe, buon auto, è tutto quel cavolo che vuoi. Capito? Quindi, per oggi è tutto. Speriamo che non si mette in pratica tutte le fesserie, li pensano questi durante le ore di sono, eh? Durante le notte loro pensano di fare queste manovre. Speriamo. Speriamo.